non me ne vogliano i laziali sapete tutti che ho mia suocera che è laziale sfegatata quindi voglio iniziare questo video con un piccolo sfottò concedetemelo volevo sapere nella famosa tabella rincorsa nei confronti del napoli per la vittoria scudetto il risultato di questa sera contro il torino quale doveva essere no perché non l'ho vista questa fatica tabella e quindi magari mi sono perso qualche cosa ragazzi dai fatemi scherzare vi voglio salutare voglio dirvi ciao a tutti supportate questo video con un bel like un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto attivate la campanellina e seguitemi su instagram ragazzi l'altra volta ho elogiato la lazio e anche sono stato soggetto di critiche nei confronti appunto della mia persona perché dicono tu sei romanista e parli bene della lazio prima me lo dicevano del napoli adesso me l'hanno detto della lazio io ragazzi quando c'è da dire una cosa la dico mi siete vi siete imparati a conoscermi e oggi devo dire onestamente che non è stata la solida lazio ragazzi scherzando all'inizio adesso entriamo nello specifico della partita oggi ha avuto parecchie difficoltà contro la squadra di juric che l'hanno che lei gliel'ha ingabbiata perché l'ha intortata intortata ecco perché ha aspettato e basso la lazio non gli ha concesso spazi non è non gli ha fatto eh fare la la solida manovra fluida e fantastica che ci ha abituato a vedere la squadra di sarri questo ve l'ho sempre detto io nelle ultime partite la lazio ha giocato meravigliosamente evidentemente juri ce l'ha studiata bene ha attarpato le ali alle fonti di gioco luis alberto milinkovic savic anche sugli esterni ha chiuso bene e poi ragazzi ma questi del torino ma quanto corrono c'è radonice se non erro sembra un centro un centometrista va a 200 all'ora poi hanno interpreti che giocano veramente bene ilic e sanabria quanto mi piace anche sanabria che giocava anche con la roma e in difesa hanno quel buongiorno che non fa passare nessuno nessuno hanno veramente una squadra che sta dimostrando si sta dimostrando veramente buona buona una buona squadra che sa il fatto suo non mollano mai ovviamente con con juri ce non puoi mai mollare perché quello entra in campo e ti morde e ti morde la gamba se non fai quello che dice lui avete visto quant'è spiritato quant'è sanguigno come allenatore è un po' come gennaro gennarino cattuso con quegli allenatori che che stanno sempre sul pezzo magari tecnicamente non è che abbiano questo grandissimo gioco come ce lo ha ce l'ha sarri come ce l'ha spalletti e via dicendo però sono allenatori che inculcano nel cervello delle dei calciatori quella mentalità non dico vincente ma da calciatore vero da giocatore attivo che non mollano mai e poi abbiamo visto anche qualche qualche trama di gioco buona non è che voglio screditare il gioco di juri però ragazzi permettetemi di dirlo la lazio oggi non è stata non è stata la solida perché ultimamente mi sono abituato a vedere una squadra armonica che gioca bene al calcio ha fatto alcune azioni che sono degne di andare nelle scuole calcio a farle vedere azioni corali spettacolari della lazio oggi non le ho viste anzi per me poteva anche perdere non oltre l'1 a 0 perché il primo tempo non hanno fatto un tiro in porta se mi ricordo poi sì c'è stata qualche occasione convulsa è arrivata nella nella in porta di milinkovic savic e come si chiama bagna il fratello di di sergei a proposito ma quanto è alto è alto due metri alto mamma mia fa paura soltanto a guardarlo e quindi ragazzi devo dire che la lazio anche quando è entrata immobile pure immobile ma come fa a giocare con una costola rotta io non l'ho capito secondo me è stato anche rischioso però hanno i medici là e sanno il fatto loro quindi se si è entrato in campo probabilmente poteva dare anche il suo contributo però è stata soffocata la lazio è stata soffocata non gli ha concesso il gioco e sarri non aveva un piano b oggi sarri doveva avere un piano b secondo me perché visto l'andamento della gara doveva cambiare a livello di gioco le fasi le fasi le transizioni doveva essere preparato ad avere altre fonti di gioco che non siano sempre le solide perché se la lazio la limiti gli togli gli spazi a volte in cappa in queste partite ultimamente era abituato a vederla giocare sempre bene devo dirlo e invece oggi mi è sembrata mi è sembrata la lazio di inizio campionato che cerca di essere propositiva per carità la lazio il gioco lo vuole sempre fare non è che è una squadra rimissiva il gioco di sarri lo mettono sempre in atto però è stata sette giornate perfetta perfetta l'ho anche detto in video passati dove alcuni laziali mi hanno fatto i complimenti dicendo che sono stato sportivo è vero però oggi sportivamente dico pure che non ho visto la solita squadra di sarri sarri land come l'ho chiamato io il gioco spettacolare perché è vero la lazio ci abituati ultimamente a vedere un gioco armonico un gioco lineare oggi non c'è stato diamo merito al torino di questa vittoria fondamentale e permettetemi di fare un altro sfottò dai ce l'ho qui ce l'ho qui sotto proprio alla 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 lingua finiscono i sogni scudetto della lazio già io l'ho detto a mia sogina l'altro po' mi dava una pizza in faccia ragazzi è sfottò ci può stare a me l'hanno fatto sempre e ci sono e non ho mai risposto male eppure il sale e lo zucchero come posso dire del del calcio va preso così il calcio anche a livello di scherzo mai mai prendersi a parolacce a brutte parole e men che meno alle mani ragazzi bisogna scherzare ogni tanto ci sta io allo scherzo non ho mai risposto picche quindi adesso voglio fare pure io un po di sfottò piccolino piccolino dai ci sta comunque la lazio sta facendo un ottimo campionato e questo non toglie ai meriti i meriti alla squadra di sarri assolutamente ragazzi assolutamente lascia un like a questo video iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina e seguimi su instagram link in descrizione dai vi aspetto tutti su instagram anche per per farmi qualche sfottò io ci sto gli sfottò non c'è problema ragazzi chi mi segue su tiktok sa benissimo che Enrico Caffarelli ci sta gli sfottò non è problema assolutamente ciao